Ancora un'operazione delle forze dell'ordine contro lo spaccio nei boschi in provincia di Como. 11 gli arresti effettuati nelle ultime 24 ore, altri 3 dovrebbero essere eseguiti a breve. Per tutti l'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, aggravata e in concorso. A coordinare le indagini iniziate a febbraio 2014, i carabinieri della compagnia di Cantù, fermato dai militari anche un trentenne marocchino, Babi Murad detto Rashid, considerato il presunto capo della banda formato da italiani e stranieri e che secondo gli inquirenti gestiva la vendita di droga nel parco dell'Ura, tra Gironi, Coldorate Caccivio, Trona San Mamette, Albiolo, Olgete Comasco, Faloppio e Lomazzo. Lo spaccio avveniva a qualsiasi ora del giorno e della notte. 240 consumatori abituali segnalati come assuntori, 11 le persone colpite da ordinanze di custodia cautelare, 10 in carcere, una ai domiciliari. Tra gli arrestati anche Moreno Dejana, fratello di Antonio e Salvatore, entrambi scomparsi, considerato uno dei fornitori della rete di spacciatori. Secondo gli inquirenti, tra gli arrestati ci sarebbero anche i responsabili dello spaccio nella zona di Casalino al Piano.